Lunga e calda. Da bambino facevo il chierichetto e un giorno, dopo aver servito messa, mentre riponevo i camici in fondo a un cesto bianco, il prete mi disse che Dio era infinito come la linea tonda di quel cesto e che, se Dio era infinito, si trovava in ogni luogo. In quel momento non capì quello che mi disse il prete, fino a quando divenni grande e sentì il bisogno di cercare Dio raggiungendo il polo sud. Per me Dio era l'ignoto, ma mi mancava l'umiltà per capirlo sino in fondo. Accade all'inizio del mio viaggio. La spedizione era accampata in mezzo alla neve sterminata. Io ero stato colpito da un attacco di dissenteria e aspettavo che mi scendesse il sonno. Invece mi scese la diarrea, lunga e calda, come l'umiltà. In quel momento intuì la natura di Dio. Alzai gli occhi e vidi che il peso della neve aveva piegato e unito i pali che reggevano la tenda. Sembrava si aiutassero e sentì che Dio era me stesso, i pali, la neve, la tenda e che per questo i maestri immateriali Dio lo chiamavano assoluto. Commento L'umiltà è il prodotto di un io consumato e un io consumato permette grandi conquiste. Commento lo chiamavano